Allora, voi sapete che noi abbiamo il nostro bravissimo Nicolo Schira, che è un fenomeno, no? C'è la famosa rubrica Chiedi lo Schira. Chiedi lo Schira alla domanda, abbiamo chiesto Schira, le offerte per le A, o quello che ha posto, e Schira dice, si può supporre, che ci sia il Manchester City che avendo...